Denis Stonucci non solo un grande difensore, ora anche attaccante, si trasforma in attaccante con una mezza rovesciata da fare invidia a molti. Sì, diciamo che in quella circostanza sono stato bravo, ma anche coraggioso nel fare appunto questo gesto tecnico, perché a volte sei a un limite dove rischi a volte di fare magari una figuraccia e a volte ti va bene. Oggi mi è andata bene e sono molto contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria, perché ci vede salvi matematicamente e ci tiene comunque quel piccolo spiraglio, quella possibilità di realizzare un altro sogno, che è quello di approdare i play-off. Non ci voleva questo episodio per rafforzare il feeling col pubblico che c'è stato dal primo minuto da quando sei qui? Fa stra-piacere avere un pubblico così che ti sostiene e anche a fine partita il coro simpatico che mi hanno fatto, mi ha fatto veramente piacere perché appunto vuol dire che qualcosa di positivo in questo girone di ritorno da parte mia, ma soprattutto da parte della squadra di tutti i compagni è stato fatto e i tifosi sono veramente riconoscenti e sono veramente dei grandi perché ci appoggiano sempre in ogni partita in caso, fuori che sia, per noi sono il massimo. Hai accennato ai play-off anche se è un obiettivo difficile, è importante però restare sul pezzo fino a fine campionato. Sì, hai detto benissimo, restare sul pezzo fino a fine campionato è il nostro obiettivo. La matematica ancora non ci condanna a non poter fare i play-off, quindi dobbiamo farle queste tre partite, tanto vale affrontarle al massimo, al 120%, magari se davanti rallentano e noi riusciamo a fare punti, chi lo sa, si potrebbe avverare anche il sogno di approdare i play-off.